Buongiorno a tutti, io sono Gabriele Bartoli, agricoltore in Novellara provincia di Reggio Emilia e assieme a mio nipote Sauro, quindi Bartoli e Gabriele Sauro, azienda agricola, produciamo vegetali e orticole e siamo specializzati nella coltivazione delle angurie. Qui ci troviamo di fronte a un'anguria gigante, la varietà Carolina Cross, di cui ci occupiamo da una ventina d'anni orsono, portando poi gli esemplari più belli alle competizioni dei due pesoni vegetali giganti un po' sparsi in tutta Italia, ne abbiamo una nel nostro paese organizzata da una decina d'anni e poi ci spostiamo anche nel mese di settembre a sale Marasingo di Brescia, un'altra pesata e in Toscana nel mese d'ottobre. È un divertimento, una passione che coltiviamo quindi si prende quello che viene, però comunque sia per far sì che la pianta stia in ottimo stato, che il frutto abbia il massimo crescimento, oltre all'attenzione, l'esperienza, gli sbagli che si fanno che comunque non mancano mai, ma vedere un attimo di poi di non rifare magari l'anno successivo e con l'aiuto, grazie alle nuove tecniche di coltivazione, partendo dall'innesto che è già stata una trovata di ottimo risultato e in più con dei fertilizzanti appropriati che nel tempo hanno migliorato anche la produzione di questi prodotti e negli ultimi anni con l'espanto, il prodotto della Green, di nuova generazione, abbiamo avuto dei risultati eccellenti, sia nella gigante in modo particolare, dove qui l'abbondanza di peso non è mai troppa, ma anche sulle cultive comestibili di cui noi produciamo e ci fanno fare fatturato, perché qui di fatturato insomma ce n'è ben poco. E quindi ringraziamo comunque tutta la collaborazione che ci ha permesso di aiutarci in un certo qual modo a risolvere tanti problemi di crescita, di qualità, che al giorno d'oggi bisogna essere competitivi nel prezzo, nella qualità, in tante cose in cui se non c'è sinergia tra chi produce, cioè chi produce noi direttamente diciamo sul terreno, ma anche chi fa prodotti appunto per l'aiuto della crescita e nella riuscita anche nella qualità dei prodotti non riusciremo a competere con quel mestiere insomma, ecco. Grazie e questo è quanto, ecco.